Dopo il nostro servizio sull'ospedale di Monopoli e sulla cardiologia ed emodinamica accreditati alla clinica privata di Conversano, non si è fatta attendere la critica dura del Movimento 5 Stelle, in particolare gli attivisti di Polignano. Considerato anche che tra Bari e Brindisi, territorio vasto, il San Giacomo chiede da tempo i due reparti ed invece otterrà solo due posti letto per la cosiddetta area critica. Alla luce dei risultati ottenuti, l'azione del sindaco di Monopoli Romani, scrive il Movimento, è stata dunque solo una messa in scena per la campagna elettorale imminente, riferendosi alle precedenti occupazioni del presidio ospedaliero. Ma la critica è stisa anche al governatore Vendola, colpevole secondo i grillini di non aver tagliato i costi della politica per dirottare risorse sulla sanità, visto che è già il suo secondo mandato e l'accetta su stipendi, autoblui e rimborsi l'avrebbe potuta usare già otto anni fa. Inoltre, continuano gli attivisti, si sarebbero potuti evitare i costi di ben 5 inceneritori e forse avremmo anche alleggerito qualche reparto di oncologia. Adesso si parla invece di 5 mega ospedali da costruire, ma con quali soldi Vendola vuole realizzarli? La logica in realtà è sempre quella del profitto, basti pensare che gli ospedali sono, di nome di fatto, aziende sanitarie. Non mancano i favoritismi, denuncia ancora il Movimento 5 Stelle, riferendosi al consigliere regionale di SEL Michele Ventricelli, originario di Altamura, città che ha scongiurato la chiusura del reparto di oncologia nell'ospedale cittadino. La verità è che in Puglia scrivono, come in tutta l'Italia, un ospedale o un reparto possono considerarsi salvi solo se c'è il politico di turno che gode di una certa posizione, perseguendo così i suoi interessi meramente elettorali.